E poi infine penso... Insomma lei non avrebbe voluto vedere andar via Marino nel modo in cui è stato... No, no, ma io su Marino abbiamo già discusso lungamente, io avrei preferito un dibattito in aula Giulio Cesare anziché una sfilata notarile, ma questo accantoniamolo. Io poi penso che, a ragione Mario, amministrare, governare, io userei l'espressione governare, Roma non si amministra, Roma si governa. Governare Roma oggi è una delle imprese più difficili, più titaniche che possa capitare, però obiettivamente credo che con onestà intellettuale e politica vada anche riconosciuto che la giunta che oggi si è insediata è lì da un mese, le critiche sono legittime, ma io penso che sia anche giusto dare il tempo perché qualcuno prenda le misure e capisca... Qualcuno dei vostri ospiti, mi è stato riferito del mio partito peraltro una settimana fa in questo studio, ha detto ci vuole almeno un anno per prendere le misure di un'amministrazione. Ha dato proprio questo tempo. E allora io che sono d'accordo con questa affermazione ritengo che noi dobbiamo fare ed esercitare un'opposizione vigile, lucida, leale negli interessi della città, ma anche con la consapevolezza che forse qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi. Di Pietro, così va dei pubblici.